La Champions League sapevamo che non era per noi, se può essere una risposta. Noi vogliamo, lo dico, lo ripeto, lo ribado, vogliamo superare il girone. Vogliamo andare in quarti di finale, sappiamo che abbiamo due partite, questa domani e l'altra che sarà in casa giovedì prossimo. E dopo l'obiettivo principale della stagione rimane la qualificazione per la Champions League. Vuoi aggiungere qualcosa? Io secondo me penso che abbiamo fatto molto bene il Champions, abbiamo dimostrato il nostro valore e abbiamo cercato tutte le partite, tranne una, bene. Poi era un gruppo buono, allora è normale che siamo usciti. E dopo a lì è una cosa molto importante per noi, vogliamo giocare fino alla fine bene, vogliamo passare il girone come ha detto il mister e speriamo che domani facciamo un buon risultato e poi anche un'altra partita. Grazie a tutti.